Se dovresti rifarci una vita, un appartamento nuovo ti potrebbe aiutare a dimenticare... Nel suo presente non è previsto un futuro che cancelli il passato. Io non voglio dimenticare, non è giusto. Ardenzi, ci sono novità su, Leone. Bene, l'ultima cosa che mi sono fatto promettere è che si sarebbe rivolto all'anonimo alcolistico. Ma vedrà, alla fine riuscirà a superare i suicidi voluti sul sorello. Claudia Pandolfi, Ricky Memphis, Giorgio Tirabassi, Giorgio Pasotti, regia di Monica Vullo. Distretto di Polizia 3, in Prima TV, domani alle 21, canale 5.